In questa nuova sezione parleremo dei cosiddetti endpoint protection, ovvero la protezione degli endpoint, quindi dei dispositivi utilizzati dagli utenti ma non solo, anche tutto ciò che riguarda il mondo server. Sia i dispositivi come le workstation sia i server hanno bisogno di essere protetti e nelle precedenti sezioni abbiamo analizzato varie metodologie che ci permettono appunto di ottenere questo risultato. Abbiamo visto ad esempio i firewall che agiscono a livello perimetrale e che si occupano di proteggere come scopo finale le workstation, i server e tutti gli applicativi all'interno dell'architettura di rete. Poi ci siamo spenti oltre e abbiamo introdotto il concetto di IDS, Intrusion Detection System o IPS, Intrusion Prevention System. Quei sistemi che agiscono sempre a livello perimetrale e non sulla singola workstation o server che comunque hanno lo scopo di filtrare e monitorare il traffico al fine di identificare eventuali attività malevole. Ad esempio scansione della rete, attività di exploitation e quant'altro. Spesso dobbiamo anche dire che i firewall perimetrali, perlomeno i next generation firewall, quindi i firewall attuali, quelli commerciali che si possono provare attualmente, hanno al loro interno anche delle funzionalità di IDS e IPS. Comunque il punto importante da ricordare è che agiscono a livello perimetrale. Poi abbiamo esaminato i cosiddetti host IDS, ovvero sistemi di monitoraggio di eventuali attività malevoli, però che si vanno a installare tramite agent o anche senza agent, comunque a livello di workstation o server. Adesso invece andiamo a introdurre una nuova metodologia e delle nuove tecnologie che sono relative agli endpoint protection. Quindi quello che una volta era il singolo e il semplice antivirus installato sul pc e adesso è diventato invece una soluzione più completa, più sofisticata che prende il nome appunto di endpoint protection. Ne esistono di vari tipi, alcuni sono commerciali che quindi hanno un costo di licenza annuale o su base o sul numero di dispositivi installati, altri sono open source, in verità non sono molti quelli validi open source, comunque ci sono. Abbiamo poi varie soluzioni, a partire ancora dal semplice antivirus che comunque magari ha delle funzionalità leggermente più evolute, a delle soluzioni molto molto avanzate di endpoint protection. Quella che possiamo vedere ad esempio è la soluzione di endpoint protection fornita da Avast. In questo caso la soluzione si chiama Avast Business per differenziarla da Avast Home che è quella che invece possiamo installare sul singolo pc o workstation. Questa è una soluzione abbastanza completa che offre diverse funzionalità, nello specifico le funzionalità offerte da questa soluzione che è la prima che andremo ad esaminare sono innanzitutto managed antivirus e questo è un punto molto importante. Pensiamo ad architetture di rete dove abbiamo decine di workstation, abbiamo molti server, sarebbe difficile comunque riuscire a mantenere il controllo su tutti. Cioè questo vuol dire che l'amministratore di sistema dovrebbe andare fisicamente su ogni singola postazione o comunque da remoto, installare l'antivirus, controllare che sia aggiornato, quindi sarebbe un lavoro insostenibile. Per questo si utilizzano delle console centralizzate che ci permettono di gestire complessivamente tutte le workstation e i server. Per questo si parla di managed antivirus, poi offre delle soluzioni di backup e recovery, di content filtering per quanto riguarda la navigazione in internet, email security, secure web gateway, patch management, quindi tutta una serie di funzionalità che appunto portano a definire queste soluzioni come endpoint protection. Perché non è banalmente la sola funzionalità di antivirus che ovviamente comunque ha, però ha tutta una serie poi di altre funzionalità. Quindi nel prossimo video adesso andremo ad esaminare un po' più approfonditamente questa soluzione Avast Business. Grazie a tutti. Grazie a tutti.